Oggi siamo qui a Ruvo, la mostra La Fontana si racconta, racconta la storia dell'acquedotto, questa opera colossale che ha portato l'acqua nella Citibonda Puglia e il piacere è di essere accolti, di essere contornati dalle scuole, dalle giovani generazioni che non hanno vissuto questo cambiamento epocale della nostra regione. Acquedotto oltre alla opera di attività quotidiana nel fornire alle popolazioni della Puglia un servizio così importante come l'acqua, segue particolarmente quello che è stato l'inizio della sua storia e questa trasformazione che ha portato progresso, salute e nello stesso tempo ricchezza alle nostre popolazioni. È un bene importante, è un bene che va salvaguardato, che va tutelato, che va esaltato e quindi anche in questo senso la mostra contribuisce con il coinvolgimento della popolazione partendo dalle più giovani generazioni a questo scopo principale dell'acquedotto.